Al centro commerciale Città dei Templi si respira aria di festa anche d'estate. Un nuovo concorso, Fantashopping, se tu il protagonista dal ricco Montepremi, ha fatto trascorrere un divertentissimo pomeriggio all'insegna dello shopping sfrenato a due fortunate vincitrici. Abbiamo comprato una televisione per rifamiglia, e poi vestiti, scarpe, accessori, borse, anche una valigia. Quindi c'è pure, magari in prospettiva, di farsi pure un bel viaggio. La vostra personal shopper vi ha proprio indirizzato verso questi acquisti, ma al momento in cui avete visto che il numero estratto corrispondeva alla vostra card, che sensazione avete provato? Non era possibile. Non abbiamo mai vinto nulla, quindi è partito tutto come un gioco, e arrivare al traguardo è stato davvero incredibile, emozionante. Quindi sicuramente c'è tempo fino al 30 luglio, quindi continuerete magari a fare acquisti, e a ritentare di nuovo la fortuna. Certo. Un pomeriggio, quello trascorso dalle due fortunati vincitrici, in compagnia della loro personal shopper, che le ha seguite durante i loro acquisti. Il concorso Fantashopping, se tu il protagonista indetto dal centro commerciale Città dei Templi di Agrigento, proseguirà per tutta l'estate con tanti altri premi. In concorso possono partecipare tutti i titolari della carta vantaggi. Per poter averla dovete ricararsi in qualsiasi punto di vendita di nostro centro commerciale. Ecco, quanti euro avrà a disposizione la vincitrice da spendere? La vincitrice di mese di maggio avrà tutte mille euro da poter spendere in tutti i negozi del nostro centro. Un'estate, come abbiamo detto all'inizio della nostra intervista, proprio ricca di divertimento, proprio all'insegna dello shopping, perché questo concorso durerà per tutta l'estate, fino a quando ci sarà la possibilità di concorrere? Il nostro concorso è iniziato mese primo maggio e durerà fino a 30 di giugno. Quindi vi invitiamo tutti. Sì?